Ma che sei venuta a piedi? In corriera. Non sono mica laudista come te io, eh. Ecco la mia bella famiglia riunita. Cominciamo bene, cominciamo. E' venuto qui Paolo Mazzani. Falso. Ciao. È successa una cosa molto grave. Zitto! Dolcetto scherzetto. Seguitemi! Mi resta poco tempo. Mi serve un rene. Non ho capito che ha chiesto. Mi volevo cambiarlo, questo mondo. Mi vergogno tanto. Ho sbagliato tante volte mai, che lo so già. Io ci ho provato finché ho potuto, Antonio. E adesso sono proprio arrivato. E' una bella sensazione quella di lavarsi la maschera e mostrarsi così come si è veramente. Ta-da! Ci metti 14 secondi a morire. Conta! Vagli a dire pure stavolta che non c'è problema. 10! 11! La passano liscia, tutto a posto. 12! Spero che il meteorite... 13! 14! Estermini tutta l'umanità. Eventualmente poi uno, un rene, se lo può riprendere o è compromesso? Magari la coppa dell'olio che la monti la rismonti, cioè.